Il ponte di Vico, situato a metà strada tra Pontassieva e Rufina, è stato costruito al tempo degli Etruschi. Le sue origini potrebbero risalire ad oltre duemila anni fa, quando le popolazioni della zona decisero di servirsi di un ponte per collegare l'antica strada etrusca che da Fiesole portava ad Arezzo. Del più antico ponte della zona restano oggi sulla sponda destra del fiume solamente alcuni ruderi. Nel corso della storia il ponte è stato certamente ricostruito più volte a causa delle piene della sieve che lo distrussero in più di un'occasione. Ciò che più incuriosisce del ponte di Vico è la denominazione che esso assume nella zona. Si pensa che nel 218 a.C. il condottiero cartaginese Annibale abbia attraversato questo ponte prima di combattere e sconfiggere le legioni romane. Per questo motivo esso viene chiamato anche con il nome di ponte d'Annibale.